No! Ciao Giorgi, lo vuoi un palloncino? No, non mi piacciono i palloncini. Guarda qui che cosa c'ho, non arrivo in la tua barchetta? E non c'è in tua casa. Lo vuoi un palloncino rosso? No. Blu? No. Verde? Gone! Girella? No. Lecco lecco? Smartphone? Mi ho tre. Torrone? No. Noccioline? Noccioline tostate? No. Castagne? Pistacchi? Finger spinner? No. Ricotta e pera, zucchero filato. Vabbè ciò. No aspetta, 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 aspetta. Una bella pizza fritta Neuro. A quanto? Pizza fritta Neuro. Non c'ho fai niente, la pizza fritta di Rasenbo. No! No! Allora! E' chiamata l'amore! Ascia! Ascia! Ha rivolto a polende! Ha rivolto! Ascia da zitta! ! Ascia! 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 As세! Grazie a tutti.